La stanza ha una cosa che è molto più approvativa, saremo la prima autologia della pubblica fatto a lavorare con questi fonti, con altri, che purtroppo non basta con le cosiddette cuffie della dignità, delle digniche. Le digniche è un sistema di cuffie collegato a una macchina che funziona per non far cadere i capelli, anche perché no, perché no, che ci sta. Io vado a dirlo, perché non è presa da fattori corsi, di corsi non vedi da buono, però cercheremo. Le dignità, ossia di dire che noi selezioneremo un protocollo di ricerca che non possiamo fare a tutti i positivi, dimenticando il suo delirio, in alcune di noi siamo previsti. Abbiamo un protocollo di ricerca sulle donne, che vanno per la riambruzione, per la riambarca, 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 per la riambarca. noi dobbiamo a quelle donne che si continuano a vivere i modi di quella della vita, dopo un esempio di segnale, e quando si trova che aveva fatto, questo è quello che stiamo già lavorando.